Se aveva creato un certo scalpore il furto avvenuto il 16 maggio scorso all'interno della sacristia della chiesa della Santissima Annunziata a Minocciano nella frazione Verrucole. A segnalare l'accaduto era stato un residente del posto che aveva dato l'allarme dopo aver notato che era stata forzata a una delle porte di ingresso. Da lì a poco il sopralluogo dei carabinieri e l'inventario dal quale si accertava che l'autore del furto aveva rubato uno stensore, un calice, un reliquiario, due patene, una campana e le chiavi del tabernacolo. Il tutto per un valore di poco superiore al 1000 euro anche per la presenza di oggetti in argento. A distanza di poche settimane le indagini svolte dai carabinieri della stazione di Gramolazzo hanno permesso non soltanto l'identificazione del presunto autore dei fatti, un cinquantenne pregiudicato residente in Alta Garfagnana, ma anche di recuperare l'intera re furtiva. Grande è stata poi la commozione del parroco di Minucciano, Don Glorio Ciannetti, nel momento in cui è stato invitato in caserma per la restituzione degli oggetti. E' grande anche la soddisfazione dei militari per aver riconsegnato alla comunità di Verrucole questi oggetti sacri, che rappresentano parte della storia religiosa del luogo. Il presunto responsabile è stato denunciato alla procura della Repubblica di Lucca.